Tutto pronto per l'inizio della nuova Serie B dopo l'esito della finale play-off tra Carrarese e Vicenza che ha decretato l'ultima promossa in cadetteria, ossia i giallazzurri di Mr. Calabro. Sono soltanto 10 gli allenatori attualmente confermati, con gli ultimi tre nuovi innesti ufficializzati nei giorni scorsi, Catanzaro, Pisa e Salernitana. Situazione molto delicata soprattutto in casa Granata, dopo la retrocessione in B, il club del presidente Iervolino ha cambiato due allenatori a distanza di 15 giorni, prima l'ex Sottil che ha deciso di dimettersi dopo una decina di giorni, poi l'annuncio di Giovanni Martuscello, storico ex vice di Maurizio Sarri. Con le ultime ufficialità si è definita la situazione degli allenatori in Serie B. Allenatori Serie B 2024-25, il punto sulle panchine.Gli allenatori confermati, 10. Brescia, Rolando Marana.Carrarese, Antonio Calabro.Cittadella, Edoardo Gorini. Cremonese, Giovanni Strop.Iu Vistabbia, Guido Pagliuca.Mantova, Davide Possanzini. Modena, Pierpaolo Bisoli.Sam Doria, Andrea Pirlo.Spezia, Luca D'Angelo. Sud Tirol, Federico Valente.I nuovi allenatori ufficializzati, 10. Bari, Moreno Longo.Tescesena, Roberto Mignani.Catenzaro, Fabio Caserta, Cosenza, Massimiliano Alvini.Frosinone, Vincenzo Vivarini. Palermo, Alessio Dionisi.Pisa, Filippo Inzaghi.Reggiana, William Viali. Salernitana, Giovanni Martuscello.Sassuolo, Fabio Grosso.